Beh, abbiamo fatto una battaglia come Camera del Lavoro e categoria anche sulla questione del ceccato, che non era solo metalmeccanica ma era proprio un patrimonio della Camera del Lavoro, di quella che è la realtà sindacale. Poi abbiamo in questi anni seguito la questione dei FAS, facendo anche un'iniziativa pubblica in sala civica e abbiamo seguito quello che è il territorio, questo territorio che è un territorio dal punto di vista industriale e molto significativo nella nostra provincia. Ecco, adesso passaggio di testimone, gli impegni della FIOM sono sempre più pressanti e quindi passiamo, insomma, lo scettro democraticamente, diciamo, a Stefano Garbin. Sì, Stefano è stato eletto prima dall'Assemblea della Camera del Lavoro e io gli auro un buon bocca al lupo. è una Camera del Lavoro molto viva e molto presente dal punto di vista della rappresentanza degli iscritti significativo questo territorio, sia per le categorie industriali che per i servizi ed è una Camera del Lavoro dove anche i servizi, addirittura il CAF è il terzo CAF della provincia come pratiche. Quindi auguro a Stefano un in bocca al lupo e un buon lavoro per quelli che saranno i prossimi impegni che avrà da responsabile. Grazie a tutti.